Musica Giorgio Magil, commissario d'acta che dovrà traghettare il servizio idrico ad Acea Ato 2 è il responsabile del servizio idrico integrato e dell'area risorse idriche Grave un detenuto rumeno aggredito in carcere da un altro recluso Trauma cranico e mandibola fratturata, polemica sulla presenza negli istituti di detenuti affetti da problemi psichici Paura a Santa Marinella a causa delle recenti piogge saltano i tombini, disagi per gli automobilisti Il comune corre ai ripari e punta sulla prevenzione, la minoranza urgente liberare i fossi Palannuoto, la SNC scende sabato nella vasca del Palagalli per un test amichevole con i del Latina Si gioca con le nuove regole Buonasera e bentrovati all'appuntamento con informazione delle 19.45 di Provincia TV Inizia a svanire il sogno dell'amministrazione comunale sulla realizzazione di un'azienda speciale per l'acqua al 100% partecipata dal comune Arriva infatti in città il commissario d'acta che si dovrà occupare del passaggio di Civitavecchia ad Acea Ato 2 Si tratta del responsabile dell'area risorse idriche e servizio idrico integrato, Giorgio Maggi Ma sentiamo i particolari del servizio Giorgio Maggi E' questo il nome del commissario ad acta nominato dalla regione e che si dovrà occupare del passaggio di Civitavecchia ad Acea Ato 2 Una nomina che va proprio nella direzione tracciata dalla sentenza del Tar del Lazio prima e del Consiglio di Stato poi E con l'arrivo del manager sembra destinata a tramontare la speranza di SEL di veder confluire il servizio idrico locale in un'azienda speciale al 100% partecipata dal comune Un'idea messa nero su bianca in quell'accordo sottoscritto pochi giorni fa dai vendoliani e dai democrat è che ha determinato la pace dei due partiti prima del Consiglio Comunale sui talcementi Secondo il piano di SEL e PD infatti l'amministrazione avrebbe dovuto procedere da qui a breve alla revoca della convenzione di gestione sottoscritta dal commissario di Caprio Con la quale si aderiva da Acea Ato 2 e all'approvazione della delibera con la quale ricondurre il servizio idrico integrato Tutto nel pieno rispetto della legge Galli e del referendum popolare che ha visto 23.000 Civitavecchiesi esprimersi a favore dell'acqua pubblica Ora però la nomina del commissario ad acta rischia di rendere la strada tracciata dalla coalizione di centro-sinistra impervia e ricca di ostacoli E il vice sindaco Enrico Luciani dovrebbe dimettersi L'invito arriva dai banchi d'opposizione precisamente dal consigliere Dimitri Vitali Tutta colpa della pessima figura fatta in Consiglio Comunale sui talcementi Per Vitali infatti il numero 2 di Palazzo del Pincio e il suo partito dovrebbero spiegare agli elettori perché questo cambiamento di programma Dopo le dichiarazioni rilasciate da Luciani anche sul quotidiano La Provincia in cui affermava di essere pronto alla campagna elettorale E che questa fase politica era finita a meno di 48 ore dichiara che il sindaco è bravo e addirittura votano la delibera E per Vitali i vendoliani dovrebbero evitare di trincerarsi dietro la scusa di aver sventato le larghe intese L'opposizione in Consiglio non ha fatto altro che votare un protocollo che arriva da lontano Nel 2001 con desio firmammo il primo protocollo sui talcementi Protocollo votato anche nel 2008 giunta Moscherini E che arriva anche da un decreto ministeriale su cui conducemmo degli studi che presentammo anche all'Urban Promo e Civitavecchia Brillò Ai consiglieri d'opposizione che non hanno condiviso la scelta dei quattro sul voto Vitali risponde In commissione abbiamo votato contro perché mancavano degli allegati Detenuto picchiato selvaggiamente Grevi conseguenze per un 33enne rumeno aggredito nella struttura di Borgata Aurelia Lo straniero è stato preso di mira da un italiano con problemi psichici Al valio del direttore del carcere la ricostruzione dell'accaduto Polemica sulla presenza di reclusi con disturbi di personalità in strutture non idonee come quella di Civitavecchia Sentiamo il servizio Brutto episodio accaduto al carcere di Borgata Aurelia di quelli che quotidianamente si verificano in una casa circondariale Se non fosse per le gravi conseguenze riportate da uno dei protagonisti della vicenda Verso le 8 infatti durante un tranquillo momento di svago in sala socialità della sezione maschile dell'istituto diretto dalla dottoressa Silvana Sergi Due detenuti sono venuti alle mani per futili motivi Il diverbio nato tra un italiano con problemi psichici o rumeno di 33 anni Si è rapidamente trasformato in una zuffa Tanto che l'italiano ha iniziato a picchiare il rivale violentemente Colpendolo ripetutamente al volto e lasciandolo a terra tramortito La scena durata pochissimi secondi non è sfuggita agli agenti di polizia penitenziaria Immediatamente intervenuti per riportare la calma I pugni sferrati da uno dei detenuti però sono stati violentissimi Per il 33enne rumeno si è reso necessario il ricovero al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Civitarecchia I medici del nosocomio hanno subito compreso la gravità del problema Mandibola fratturata, trauma cranico e vistosecchimosi al volto Addirittura stanno pensando di trasferire il paziente in un ospedale romano Per un intervento di chirurgia maxillofacciale Sull'episodio il direttore del carcere sta facendo chiarezza Visionando i filmati delle telecamere interne Ascoltando le testimonianze degli agenti in servizio in quel momento e degli altri detenuti Ed è polemica sulla presenza degli istituti penitenziari come quello di Civitavecchia Di detenuti con problemi psichici Su un totale di 630 ospiti infatti Il 10% dei detenuti della casa circondariale di Civitavecchia È affetto da disturbi di personalità o comunque da patologie ritenute poco gravi Rispetto a quelle che rendono necessaria la detenzione presso un ospedale psichiatrico o giudiziario E allora le strutture come quella di Borgata Aurelia Devono far fronte continuamente a imprevisti di questo tipo Sperando che le conseguenze non siano gravi come è accaduto nella zuffa appena scoppiata A carico del detenuto italiano saranno comunque presi i provvedimenti E quasi sicuramente sarà trasferito in una struttura più idonea Bisognerà attendere invece per vedere in che modo il rumeno ferito recupererà Le necessità di prevedere banchine elettrificate nel porto di Civitavecchia E al centro di una interrogazione presentata questa mattina dall'onorevole Marietta Tidei Ai ministri Maurizio Lupi e Andrea Orlando Rispettivamente ai vertici di infrastrutture e ambiente Oltre 100 diverse navi da crociera attraccano in 12 mesi Per un numero complessivo di circa 1000 attracchi l'anno Della durata media di oltre 10 ore ciascuno scrive la deputata del PD Ovviamente poiché la produzione di energia elettrica a bordo È ottenuta da motori a combustione interna alimentati da prodotti petroliferi Essa rilascia significativi quantitativi di sostanze inquinanti ai riformi Nella sua interrogazione la parlamentare suggerisce ai ministri Modalità per sostenere l'opera già prevista per due banchine Dall'autorità portuale nell'ambito della realizzazione della nuova darsena Sant'Egidio Ad esempio supportando l'adeguamento del porto con una regolamentazione specifica Sostenendo gli investimenti necessari per l'adeguamento degli impianti di bordo Delle navi da crociera e stabilendo un obbligo Per l'alimentazione da terra delle navi in sosta nei porti Almeno per le navi da crociera In occasione del novantesimo compleanno del dottore Raffaele Meloro Il sindaco Tidei e l'amministrazione comunale Invitano la cittadinanza a partecipare all'incontro per gli auguri Che si terrà venerdì 11 ottobre alle 19 presso l'Aula Pucci Una personalità molto attiva che fin da giovani si è interessata di politica Scrivono dall'amministrazione Ricoprendo anche l'incarico di assessore Per il sindaco Tidei si tratta di un evento che vuole essere un momento di condivisione Di questo traguardo nel quale Civitavecchia dimostra il suo affetto A un personaggio che per la città ha fatto molto Visita in porto domani del senatore Marco Filippi Membro della commissione lavori pubblici del senato Dopo un giro nello scalo il senatore parteciperà Con il presidente dell'autorità portuale Pasqualino Monti Ad un'assemblea pubblica per discutere sulla riforma della legge 84-94 L'appuntamento è alle 11 nella sala conferenze dell'autorità portuale In attesa della conclusione dei lavori di ristrutturazione del reparto di medicina Prevista per fine anno La fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia Ha finanziato l'acquisto di due importanti macchinari per l'UOC di oculistica Dell'ospedale San Paolo Si tratta di un fluorografo e di un laser Fondamentali per le attività legate alla retina medica Le nostre interviste Noi sempre interveniamo per quello che riguarda l'acquisto dei macchinari Per quello che riguarda invece il fluorangiografo Debo dire che è stata la prima iniziativa Che ci è stata richiesta dalla San Paolo Quando io ero diventato appena presidente della fondazione Abbiamo fatto il primo fluorangiografo Che non è questo Proprio per dare la possibilità a Civitavecchia Di partire con l'unità oculistica Allora non c'era Il dottor Tito si impegnò parecchio perché venisse istituita questa unità Che significava sicuramente meno disagi per i cittadini E la fondazione chiaramente ha aderito a questa richiesta Purtroppo ci sono stati un po' di guai Che poi ringraziando il cielo si sono tutti quanti sistemati Il fluorangiografo è andato benissimo Tanto è vero che dopo circa dieci anni è stato necessario cambiarlo E chiaramente la fondazione non si è tirata indietro Ha voluto donare alla città anche questo tipo di apparecchio Insieme al laser che lo stesso è molto importante Sostenendo chiaramente un bel impegno Che si va a inserire nell'impegno che la fondazione annualmente Pone a favore dell'asla in genere Abbiamo ancora tante cose da fare Io dico sempre che se invece della fondazione Cassa di risparmio di Civitavecchia Vi fossero anche istituzioni Altre istituzioni Probabilmente noi già avremmo finito tutti i reparti dell'ospedale Comunque già ne abbiamo fatti tre o quattro Stiamo ultimando medicina E continuiamo nel nostro impegno con i vari macchinari Per esumo peraltro che sarà necessario fare anche una serie di trasmissioni Per spiegare alla gente, alla collettività Delle apparecchiature che sono a Civitavecchia Molti non le conoscono e magari sono costretti ancora ad andare a Roma Quindi sensibilizzare i medici di base E soprattutto fare delle trasmissioni conoscitive Al fine di far presente queste situazioni E di fare in modo che sempre di più la collettività Possa servirsi di questi importantissimi macchinari Ringraziamo innanzitutto il Presidente e la fondazione Perché nonostante la grave carenza di personale Che come vedete sono rimasta soltanto i nostri due colleghi E ricordo in questo momento, come penso è stato ricordato anche prima Il nostro scomparso amico Ettore Tito Sono rimasti soltanto in due E nonostante questo i numeri, le prestazioni Ma soprattutto la qualità delle prestazioni è aumentata Noi abbiamo quotidianamente segnali positivi in questo senso Questo è molto importante in una popolazione anziana come la nostra Che cresce sempre maggiormente E io non posso fra l'altro che essere contento di questo reparto E soprattutto porgere i miei complimenti ai due che stanno qui Alla dottoressa Bassioli che dirige il reparto E al dottor Fava che lavorano tutte e due in modo egregio e importante Si rivolge a fondazioni, imprenditori, armatori, società ed associazioni Il direttore generale della ASL RMF Giuseppe Quintavalle Per reperire i finanziamenti necessari alla ristrutturazione esterna Dell'ospedale cittadino E lancia una proposta originale Sentiamola in questa intervista Un'interessante iniziativa quella proposta appunto dal dottor Quintavalle Si tratta di riqualificare anche l'ospedale dal punto di vista esterno Ma io lancio questa proposta perché l'ospedale dal punto di vista interno Sta completamente trasformandosi Adesso lunedì sarà aperta la nuova camera mortuaria Inizieranno i lavori della risonanza magnetica Che ricordo essere la prima in ASL Ma che dire, un ospedale non può essere solo all'interno Cioè la scatola esterna deve essere anche bella Il contenitore è pieno di contenuto Ma deve avere un design, uno stile esterno particolare e nuovo Quindi chiedo e lancio questa proposta A tutte le fondazioni Enel Le altre fondazioni Le grandi flotte L'autorità portuale Se può essere interessata A adottare attraverso pannelli pubblicitari Le nostre mure esterne Per permettere quindi di poter fare una nuova definizione Di quello che è la progettualità esterna Progetto che è già stato presentato anche al Comune Che è stato condiviso e apprezzato dal nostro Sindaco Quindi credo che unendo tutte le sinergie Possiamo dare anche questo alla nostra città Che lo merita tutto Torna sabato e domenica alla Mela di Aism La manifestazione di raccolta fondi Che l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla Dedica ai giovani più colpiti dalla grave patologia A Civitavecchia la Proloco Sarà a disposizione sabato dalle 9.30 alle 18.30 Via Le Garibaldi Domenica al centro commerciale La Scaglia Con un'offerta minima di 8 euro Sarà possibile portare a casa un sacchetto di miele Di varietà mista da 1,8 kg Adesso la pausa, poi il comprensorio